Siamo qui, il giorno... che giorno è oggi? 12 febbraio più antico del palio di Siena saluto la mamma lancio della pignatta nella fontana del Bernini siamo pronti, qui è il Mastro Cotello le fonti, inserzioni nelle cacolome dei cristiani dopo il secondo secolo io e Mastro Cotello ho capito seguo la palla signor Don Zecco, Cotello Veloci che fa scarica, veloce? andiamo, vai! no! non l'abbiamo pregata aspetta un attimo, aspetta un attimo Veloci! Veloci! Cotello, vai! vai con te, prova che ti è eccolo! uhuuuh! l'uomo più scarso è Francesco Giuffre, vorrei dirlo l'ho fatto prima per 4 volte di fila, attenzione ciao! vittura, vittura! vittura, 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 vittura...